Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova parte di Minecraft, continuiamo a costruire la nostra farm di mucche Eravamo arrivati qua, avevamo fatto la parte con la lava, che sarà la nostra trappola Adesso dovremmo fare in modo che quando noi terremo una cassa, anzi due casse, una grande cesta qua Però gli strumenti ci devono arrivare da soli, noi non dobbiamo fare assolutamente nulla per raccoglierli Si raccoglieranno da soli Allora, devono essere legati Ah no, mi pare che si debba fare così per legare una tramoggia Adesso qua tolgo questo strato che poi verrà rimesso solamente per permettermi di... Allora Se io metto... ecco, adesso voi vedete meglio Dobbiamo fare così per avere un sistema di tramogge collegate alle ceste Dobbiamo metterne... tenendo premuto shift ci clicchiamo col destro E vabbè, chi se ne frega se qua sotto è vuoto Cioè c'è un blocco... insomma... avete capito In questo modo se io lancio un oggetto finisce nella tramoggia e finisce nella ceste Qua mi è sfuggito un'altra tramoggia Però la mucca... quando subirà l'effetto della lava Quando subirà la scottatura e morirà Verrà qua... cioè cadrà qua E quindi noi dobbiamo fare un sistema diciamo di doppie tramogge Col tasto destro premiamo... teniamo premuto shift e col tasto destro clicchiamo Così questa tramoggia sarà collegata a questa La quale è collegata alla cassa E anche questa qui... questa qui è collegata a questa e questa qua è collegata alla cassa Quindi è un sistema abbastanza semplice io direi Noi stiamo attenti qua però a non mettere del legno qua vicino Vabbè i cartelli ma... i cartelli fortunatamente fanno un'eccezione Perché possono bruciare Adesso io per... cioè appunto metto un po' di cobblestone Qua comunque metto della legna però penso che sia lontana dalla lava Credo e spero Bene adesso ad esempio mettiamo caso che ci sia una mucca che muoia Facciamo finta che questo qua che questa cobblestone che io ho in mano in realtà sia che sono una bistecca E noi... la mucca la dropperà Ok... cadrà nella tramoggia e cadrà nella cesta direttamente Noi non dovremo assolutamente fare quasi niente Se non... cioè... a meno... tranne... premere questo pulsante in modo che le mucche vadano giù, cadano giù La lava le ucciderà ma non subito perché la lava le scotterà però loro dopo moriranno da sole nel giro di qualche secondo E gli oggetti ovvero la pelle e la bistecca cotta Cadranno nelle tramoggio e successivamente nella cesta E' un sistema che ho visto in... in un video di un inglese mi pare E adesso non... non ci resta da fare altro che... insomma finire la costruzione Vabbè... un'altra cosa importantissima sono le mucche Adesso dobbiamo condurre... grazie... grazie insomma... col grano Dobbiamo cercareci delle mucche Non... io ne avevo vista... oddio sento dei rumori Io so che qua vicino ce n'è una... eccone una Dai vieni qua Se noi abbiamo il grano... l'animale in questione ci seguirà Ecco... non so perché però è così Allora chissà se ci segue anche qua dentro... no? Allora aspettate... per il momento... proviamo a... ok Così ci dovrebbe seguire... dai cara su Aspettate che tolgo la porta che magari d'impiccio Dai! Ok ci segue... perfetto Adesso vieni... dai vieni qua Vieni qua... adesso io ti butto dentro Perfetto... adesso ce ne serve soltanto un'altra Una volta che avremo due mucche intrappolate sarà praticamente... Tutto dopo molto più facile Perché non dovremo condurre altre mucche dentro Ma dobbiamo solo usare... oh un Enderman Dobbiamo solo usare... oh merda un Creeper! Via 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 via! Non me ne frega Enderman eh... non voglio farti del male Perché c'è questo Creeper che mi mette ansia Aspettate che qua finisco... va là... ok Oh non c'è più il Creeper... meno male Andiamo a cercarci l'altra mucca che so che era qua vicina Merda lì ci sono dei mob... sta arrivando un ragno Non mi sento al sicuro in mezzo a tutti questi mob Nella notte Vabbè dai andiamo... proviamo a vedere se c'è l'altra mucca Io so che ce n'era... oddio... so che ce n'era un'altra qua Cioè lo so... lo so... è sicuro... aspettate... Allora dove è andata Adair? Oh! Questo non è una mucca È qualcosa di ben più esplosivo Ma è sempre meglio non farli esplodere Merda mi è sembrato di sentire dei passi... io sento sempre dei passi Ecco qua vicino ce n'era una Vabbè lo zombie è talmente stupido da cadere E invece c'è mancato poco cadevo anch'io Oh ma che palle il Creeper Muori... morite tutti... morite tutti zombie Dio ma cos'è? Ne appaiono uno dopo l'altro Ah! No! Merda! Un Creeper! Dio! Guardate lasciamo perdere cosa? E là ce n'è un altro Madonna! Ma bastardi Creeper di merda E adesso dobbiamo rivestire tutto qua Perché non è bello vedere un cratere nel... Nel nostro mondo Da! Ecco là ce n'è un altro ma sembra che non mi abbia visto C'ho paura C'ho veramente paura Questa qua è una pecora Ma a me servono le mucche Oh oh! Quelle non sono mucche No no Sono dei mob E anche molto aggressivi direi Allora vado a dormire perché qua non mi sento sicuro Merda ma ci sono rimasti solamente tre Tre... Punti di fame Allora mangiamoci qualcosa Va là Ecco lì c'è scritto Diuzza è bruciato a morte Boh Ok adesso mob Scheletri Via Scusate mob Io dico sempre mob in realtà sono zombie Ma sono abituato a dire mob Oh! Tu! Come mai non bruci caro? Eh perché era all'ombra Eh se stanno sotto lì È vero Se stanno sotto lì Non bruciano T'ho brutto bastardo Dov'è l'altra mucca? Io nel mio mondo originale Siccome uso Too many items La modalità creativa Ho usato semplicemente Lo spawn Cioè le... Eccola! Cioè ho semplicemente usato l'uovo Quello che serve per far spawnare l'animale O il mob in questione Grazie alla modalità creativa Dai seguitemi Però io non voglio le pecore Voglio solo la mucca Cosa devo farci con questa pecora? Non la voglio Sono costretto ad ucciderla Mi dispiace Io odio uccidere gli animali Però Dai Dai cara Su! Cosa è? Sei inceppata la mucca? Dai vieni Dai vieni cara Che adesso ti uso Ti uso come Come mezzo riproduttivo Dai Entra Entra qua Entra Vai lì Dai che ormai ci sei quasi No No Madonna Dove è andata la mucca? È morta Porca puttana Tio can Dio Oh No non è possibile Io mi ero Io avevo detto Io stesso Avevo detto a voi Di non usare il legno In prossimità della lava E io l'ho usato Ma perché sono così coglione Adesso mi devo procurare Un'altra mucca ancora Quella mucca là È morta carbonizzata Si vede Cioè si vede che il fuoco L'ha toccata In qualche modo Insomma lei è morta Poverina Ma porca miseria Ma guardate se Se cose simili Devono toccare sempre me Ecco lì c'è la pecora Quando io voglio la mucca C'è la pecora Quando io voglio la pecora C'è la mucca Lì c'è un'altra pecora E le mucche non ci sono Sono solo pecore Sembra di essere in Scozia Vabbè fa niente Vedrò se ci sarà Vedrò fuori dal video Se c'è una mucca Qua vicino Boh Spero tanto di sì Noi ci sentiamo Con la prossima parte Ciao Ciao